Lino Banfi è il testimonial speciale della campagna di comunicazione avviata dall'arma dei carabinieri contro le truffe agli anziani. La scelta del nonno d'Italia è stata ispirata dall'esigenza e dal desiderio di avvicinarsi ancora di più agli anziani, con l'intento principale di trasmettere in modo diretto ed efficace consigli utili a tutelarsi dai reagiri. Nello spot, diffuso sulle piattaforme social dell'arma e sui media, l'artista pugliese e il comandante di stazione del quartiere in cui vive mettono in guardia gli spettatori dalle truffe. Ovviamente quello che c'è in cascata e nel pacco non c'era nulla. Queste sono le cose che a me mi fanno capito e a questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto c'è una fuga di gas. Io dico lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano. Lino, ne sentiamo tante le storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine. E quello che dico io, l'importante è che uno pensi questa è una truffa e chiama i carabinieri. Se qualcuno di persona al telefono chiede informazioni personali, chiede soldi, vuole entrare in casa, non abbiate dubbi, chiamate l'112. Noi possiamo aiutarvi. Oh, aprite bene gli occhi, eh!